Tra incubi e paranoie si fa spazio l'idea che ci sia un complotto per fare fuori leader del carrozzo. E intanto cresce la divaricazione sin troppo avvertibile tra la lega di governo e quella rimasta fuori. L'inesausto venditore non trova più niente di buono da spazzare sul mercato elettorale perché la delegazione leghista al governo non lo aiuta. E infatti Matteo Salvini sempre più spesso si lamenta con i suoi amici e collaboratori di dover raccogliere gli avanzi, la merce più scadente. Come la minaccia di un'interrogazione parlamentare, annunciata il 18 agosto, contro il ministro Lamorgese dopo il rave parti di Viterbo. Interrogazione di cui ancora non c'è traccia, malgrado gli annunci, forse perché sarebbe imbarazzante rivolgere al governo delle domande sulla gestione dell'ordine pubblico quando si ha un sottosegretario leghista, Nicola Molteni, che al Viminale ha proprio la delega all'ordine pubblico. E allora soffre, Salvini. E si lamenta di questa vita ad espedienti propagandistici cui è costretto. Deve inventarsi ogni giorno il pezzetto di terra su cui stare in piedi perché Giancarlo Giorgetti, il suo numero due nel partito, è in sciopero. Braccia concerte, ecco l'immagine. Non c'è niente nell'attività di governo che il capo della Lega riesca a far brillare come vorrebbe o come ritiene di essere capace di poter fare. E questo perché Giorgetti pensa Salvini non gliene dà l'opportunità. Non fa il lavoro che ha sempre fatto. E che sa fare benissimo. Si tratta certo ancora di piccoli sfoghi, minuzzoli di parole che il segretario della Lega consegna qui e là, ma che pure descrivono un clima in cui verità, verosimiglianza e paranoia danzano intrecciate indistinguibili. Cosa ci vuole ad accordarsi con Draghi per ottenere qualche provvedimento utile alla Lega? Qualcosa da finanziare magari con i soldi recuperati dalla cancellazione dei provvedimenti inutili di Conte, tipo il cashback. Perché Giorgetti non lo fa? Si chiede un leghista, ovviamente ultra salviniano. Grazie a tutti.